Siamo la mela in panchina, non ci non ne va. Borriello mi ha giocato titolare, Borriello. Dove vi ripiego? Quando gli ho detto io, sto pieno di bombe addosso, me ne dovete trovare, non so dove. Non mi ripiego che sto pure in piedi, non mi fa bambiare. Grande frate, uomini e don, ma ti riconoscivo, vaffanze. Non so come me ne faccio. E lui è arrivato a me e mi ha detto, oh tifoso. La staffa parla la giura. Ho sempre emozione perché poi vedi il prato verde, arrivi e vedi il prato verde e ti senti al centro del mondo. No, ma numero tre, Birels, mi sei bloccato il corio. Il coro della giornata è Marotta, due cazzo guardi. Se gli piace a loro. È scivolo giuventino. Tregua prima della tempessa. La mini tregua, dopodiché scappuzzino per lui. La frutazione, alla repubblica, sentire il tuo padrone. Ho giuventino, ciuccia piselli, di tutta quanta, la famiglia è belli. La staffa oserà, c'è un popolo. Sto accendomi la voce, è mangiù la vostra. Dodo, chi è Dodo? È Ninetto Tavoli, oh. Ninetto Tavoli che i piedi fucilati. Aspetta. Abbiamo appena scoperto che il tuo nome fa Pires, quindi richiama una pippa totale. C'ho paura che Gervinio sarà risbagliato. Io non l'ho visto. Io non guardo la televisione. Guarda che non ha segnato Gervinio. Ma c'è un sinistro, ma c'è un sinistro. Avevo detto doppietta di destro stasera. Ma rega, gli ha ribalzato addosso. Gli sarà ribalzato addosso ma c'è stasera. Marino, Marino, Marino. Mirascio, con due. Gervinio, Marino, Marino. Per la pedia, con un pimpiere di parpega, ed una coppa di sciamala. Allora, fatto di cronaca della settimana su ora, dalla luce un bambino. Uh, guarda, due euro. No, ma noi dobbiamo fare il concepimento come è stato fatto. Come è stato? Perché questo è il predio. Arbitro, è la seconda, eh? Il predio è scivolato così. Però ci stanno tesi che dicono che è cascato in mezzo Ma secondo me lei non sapeva di essere incinta o ha fatto la vaga? Ma quando è non sapere di essere incinta? Era 9 mesi che è squabagliata per aver rimasto la sua palla L'esera che ho detto sì al pisello, io ci sono cascato tutti i scarpe Stefano, descrivi i gol Sono uscito le florenze Rotman, quant'è da Champions League? Ma quanto è scucchione? Sono bello E l'ho anche visto, l'ho anche visto Non lo faccio lasciare Soll' soluzione è sul campo Mattia Desto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti